grande questa squadra iscrivete questo canale io sono pre-rider loro sono davvero pre-rider ciao vai Samuel iscrivete anche il mio canale ok Ryan Madriga vai fai come lo farei io oh mamma c'è Scusa, ma te come sei venuto con la macchina? Con la macchina, non so mi acciucco mai voi eh! Addio 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 addio! L'ho provato a chiuderlo ma manca poco mi cingapuzza! No quella andava saltata vedrai! Comunque è spaziale sto sentimento! Questo è bello sì! Abbassate la capa! Abbassate la capa! Ho ho! Ha ha! Vai! Ah! Bella storia! E legnata! Per essere la prima parte che si fa vedo che si fa con moderazione eh! Ciao grazie! Molla molla! C'è traffigato! Vai! Ciao! Ciao! Eh arriveranno vedrai! Non si sbaglia! 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 Vai vai vai! Molla! Samualla! Vai più forte! Vai più forte! Se c'è un'altra! Ammè io! Diocchio! Vai più forte! Se c'è un'altra! Almeno si doppia per bene! Ma hai la situazione! Ci sono arrivati in azione! Io ci credo! C'era l'ho vista tutta eh! No no no! Ma io ero tranquillo eh! Non c'era la spazienza tua! Ancora! Non c'era la spazienza tua! Non c'era! guarda se ci andava bene grazie a tutti